La primavera si fa sentire a Caltanissette e dopo il freddo rigido dei giorni scorsi solo un lieve innalzamento delle temperature è previsto questa settimana. L'ondata di freddo e di pioggia in alcuni punti della Sicilia ha fatto arrivare anche la neve. Nel capoluogo Nisseno questa settimana ci sarà una temperatura variabile fino alla prima metà e un weekend piovoso con le minime che toccano i 3 gradi e le massime fino a 13 gradi. Un equinozio di primavera che tarda ad arrivare piuttosto lascia il passo ancora all'inverno a causa dei venti freddi che arrivano dalla Russia e nonostante il sole sia lo zenit all'equatore pur essendoci giornate più lunghe i Nisseni dovranno ancora attendere prima di accogliere il tepore primaverile.